Salve a tutti, oggi parliamo degli elicotteri da combattimento su Rust, che appaiono ogni 2-3 ore circa e si aggirano nei dintorni di zone come questa, quindi edifici, agglomerati, quindi state molto attenti quando bazzicate questi luoghi e sentite il rumore dell'elicottero, meglio rimanere nascosti quando attaccano gli elicotteri. Allora, se siete troppo vicini e avete più di due pezzi di vestiti, quindi non so, stivali, protezione al torace, alle gambe, siete a tre pezzi di vestiti e quindi l'elicottero vi può attaccare. Perché c'è questa cosa? Perché gli utenti appena nati, nudi, senza armi, tecnicamente non si potrebbero neanche difendere, quindi questo è fatto per avvantaggiare un po' i novizi o quelli appena nati. Inoltre, vi possono attaccare anche se avete un'arma che può raggiungere la distanza, quindi un fucile ad esempio, e ce l'avete nell'inventario rapido, quindi anche lì fate molta attenzione. Ora, conviene attaccare gli elicotteri? Solitamente no, soprattutto se siete da soli, perché rischiate quasi sempre di morire, in quanto loro utilizzano armi automatiche e missili, quindi è difficilissimo. Se siete in team, siete tutti molto armati, potreste provare ad attaccare l'elicottero e a cercare di distruggerlo. È possibile distruggerlo e se viene distrutto troverete dei materiali di qualità nei resti dell'elicottero, quindi ogni tanto qualcuno potrebbe decidere di provare. Altrimenti aspettate di essere più potenti o ignorateli o nascondetevi, schivateli. Attenti anche di notte perché nonostante loro abbiano un sistema di illuminazione che crea un cono di luce, non è che se non siete in quel cono di luce non venite avvistati, venite avvistati comunque anche se vi avvicinate da dietro, quindi state molto molto attenti. Spero di essere stato utile, un saluto a tutti.